gabbelino gabbelino di fare sempre il bullino ma cosa devo condividere queste tavole una cosa di soldi non su me lascia questo di partita che tanto siamo forse attenzione metri ora che stanno trienni ci pensa che ti chiamo ci pensa che troppo ci pensa rimane senza ma spesso andare quanti rifiuti sono più o 90 88 e ci prendere di genova vale cante cima i guai la storia questo è un è molto il che il passaggio da un gioco no è un gioco attenzione per arrivare a fare 0 questo è un gioco io oggi diciamo che sì vedere il torneo no eh no condividilo e come lo faccio a condividere su presenta ora vai ci siamo cercati tutti raga io dama 10 lui asso 3 asso flop facilissimo ragione io riportiamo i risultati questo ingresso nella chat ragazza se volete entrare in live